L'obesità a mela è un problema veramente molto serio e molto importante, soprattutto al giorno d'oggi. C'è un tipo di obesità che colpisce soprattutto gli uomini, però in realtà oggi colpisce molto anche le donne. Ecco, è l'obesità che si localizza a livello dell'addome, quindi c'è questa fascia addominale di accumulo di grasso, è un accumulo di grasso profondo, è un grasso viscerale, più che un grasso superficiale come quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, che è la cellulite. È un grasso molto pericoloso, oltre che inestetico, non è certo bello avere la pancia, no? Qui la pancia che vediamo nell'uomo, dico più frequentemente, ma vediamo molto spesso anche nella donna. In questa pancia, in questo grasso viscerale, vengono prodotte citochine infiammatorie, in particolare l'interleuchina 6, che poi vanno ad infiammare l'organismo, a danneggiare a livello sia cardiocircolatorio che anche neurologico. Quindi è estremamente importante che di fronte a questa demo-obesità, a questo soggetto che cresce soprattutto nell'addome, si faccia qualcosa. È estremamente importante, perché da lì partono moltissime problematiche. Da lì parte l'insulino-resistenza, che poi ci porterà al diabete 2. Da lì parte l'ipertensione arteriosa, con tutti i suoi problemi estremamente importanti. Da lì partono tutte quelle problematiche metaboliche, che vanno dall'ipercolesterolemia, all'iperuricemia, eccetera, eccetera. E naturalmente è anche un fatto estetico estremamente importante. Quindi è importante dare ridievo al discorso della pancia, della sinistra metabolica, dell'obesità medica, e attuare più presto delle cure. Le cure possono essere certamente l'approccio dietetico, il consumo eccessivo di carboidrati, di pane e pasta, così via, porta a questo tipo di accumulo, che peraltro però, come ogni cosa, si verifica su una base costituzionale. Quindi sarà il soggetto flemmatico e il soggetto sanguigno che hanno tendenza ad avere questo accumulo. Poi alcune volte vediamo anche dei soggetti magri, che sono detti biliari o melanconici, che magro tutto il corpo e hanno questo accumulo a livello addominale. Una volta che noi individuiamo questo problema, dobbiamo intervenire. Intervenire come? È abbastanza semplice, perché si interviene, come dicevo, con la dieta, cercando di limitare al massimo l'apporto di carboidrati, invece di aumentare l'apporto non tanto di frutta, quanto di verdura, di pesce, di carne, eccetera, eccetera, e poi si interviene con, naturalmente, qualche integrazione. L'integrazione possono essere l'integrazione di amminoacidi, per esempio la metionina, la colina, sono amminoacidi che aiutano la distruzione di questo grasso addominale, e poi sostanze come, per esempio, il cromo. Ecco, il cromo è un elemento minerale estremamente importante, che è preventivo della manifestazione del diabete, ma è anche estremamente importante un po' per prevenire, per curare questo tipo di obesità. Molta gente non ne vede l'importanza, non capisce il rilievo del cromo, che tra l'altro deve essere preso sotto forma chelata all'amminoacido per essere assorbito correttamente, quindi deve essere il cromo piccolinato sostanzialmente, necessita di almeno sei settimane, con quantità anche abbastanza importanti, che arrivano fino a un grammo, per agire su questa obesità. Quindi non è che la persona fa la dieta per tre giorni, per una settimana, quelle solite diete che usano molto spesso al giorno oggi, e cala dopo cinque giorni. Qui si tratta di instaurare un'abitudine, un'educazione dietetica che deve durare nel corso della vita, perché noi man mano che andiamo avanti con l'età, tendiamo ad andare in sindrome metabolica, tendiamo ad andare in obesità addominale, tendiamo ad andare in accumulo di adipe a livello dell'addomino. Quindi si tratta di avere un'igiene di vita che dobbiamo mantenere sempre e di assumere queste sostanze, che sono, come dicevo, da una parte importante l'uso di vegetali, come per esempio la cannella, che sensibilizza le cellule all'insulina e quindi rende meno importante questo accumulo di lipidi, perché in realtà è l'insulina che rimane nel sangue senza agire sulla cellula, che determina la crescita delle cellule adipose. Ricordiamoci che la sindrome metabolica è tipica dell'uomo, ma la vediamo anche nella donna, e la donna ha un effetto disastroso, perché è quella che in realtà condiziona l'ovaio policistico, è una situazione che predispone alla sterilità, per esempio, oltre che a una serie di disturbi infiniti che vanno dalla crescita dei peli, e questa crescita dei peli nella donna, oltre che la crescita addominale, molto spesso concomita con questo ovaio policistico, che poi si aggancerà a tutto un disordine metabolico che porta a un sovvertimento di tutte le funzioni hormonali della donna. Quindi, concludendo, l'importanza di osservare, di intervenire più presto, quando incomincia l'accumulo di grasso hormonale, dieta che deve essere una dieta riduttiva, non deve essere più la dieta mediterranea, che vedevano un 60% di carboidrati, ma la quota di pasta e pane deve essere drasticamente ridotta, almeno al 30%, e intervento con alcuni integratori specifici molto mirati, molto semplici, ne abbiamo nominati tre, il cromo, la metionina, la cannella. Naturalmente ci sono anche delle sostanze nuove, emergenti, molto interessanti, per esempio il caffè verde, il tè, tutte le sostanze che aumentano il metabolismo dei lipidi e favoriscono la perdita rapida di questo grasso, che oltre ad essere inestetico, è anche molto pericoloso. Arrivederci al prossimo video.